Nel 2019 le 323 scuole dell'infanzia paritarie private e le 92 comunali della Toscana potranno beneficiare dei 5.658.160 euro messi a disposizione dalla regione che ha raddoppiato il contributo per migliorare il funzionamento degli istituti. Il provvedimento presentato a Firenze si accompagna a quello dei buoni scuole, rimborsi destinati alle famiglie con ISEE sotto i 30.000 euro e con bambini dai 3 ai 6 anni iscritti alle paritarie dell'infanzia per i quali è previsto un investimento pubblico di 530.000 euro. È una misura in cui crediamo molto storicamente perché queste scuole garantiscono la libertà di scelta educativa delle famiglie e garantiscono anche una flessibilità e la presenza in certi territori in cui magari non arriva la scuola statale. Quindi sono un completamento, una parte essenziale del sistema pubblico di istruzione. I bambini iscritti alle scuole dell'infanzia paritarie, private e comunali in Toscana sono 22.000. I due provvedimenti della regione su buoni scuola e sostegno al miglior funzionamento degli istituti sono anche un importante incentivo all'occupazione. Entrambi, favorendo la frequenza e sostenendo le scuole, sostengono anche l'occupazione dei 2.000 persone tra personale ausiliario, insegnanti, amministrativi e direttori che sono il personale che lavora nelle scuole paritarie. Dal 2010 la regione ha sostenuto la rete scolastica paritaria con oltre 42 milioni di euro.